Buona e giusta renderti grazie e innalzare il ritmo di benedizione e di ode a te, Dio Onipotente e Eterno per Cristo, nostro Redentore. Egli fu annunziato da tutti i profetti. La Vergine Maria lo attese da porto in greco con ineffabile ove. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presentere al mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale, ci trovi in un'antina da ottenere i risultati in una valore. Per questo dono della tua benevolenza, con gli amiani di essa, famosi un'anima, proclamiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 Signore, Dio del universo, Dio del universo,